Nero No ma vedo eh, però non vedo bene i lineamenti del viso, perché tu li vedi i lineamenti del viso da qua? Con gli occhiali si, eh con gli occhiali si infatti, io ho dieci decimi, però vedo i lineamenti di questo, certo non vedo i lineamenti di questo, proprio dei ragazzi che è nata dall'altra parte. Che ore sono così vediamo? 13 e 11, 1 e 12, per vedere quora sono. Io faccio 13 e 11. Grazie a tutti. 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 Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo. Grazie a tutti. 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 Arbitri. Arbitro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.